Dobbiamo essere eroici e affrontare tutta la condizione delle donne nell'Islam. Questo perché l'Islam è una religione molto misogina e molto maschilista. Ho pensato di iniziare direttamente dagli Edith, che sono la voce diretta di Maometto, del fondatore dell'Islam, per capire quale fosse il suo approccio alle donne e che cosa abbia lasciato detto. Dopodiché vedremo alcuni concetti estrapolati dal Corano e infine la Sharia. Fra il Corano e la Sharia ci saranno due episodi della biografia di Maometto. Uno ci serve soltanto per capire cosa stia dicendo Allah nel Corano e l'altro è un episodio scandaloso di Maometto. Edith, il messaggero di Allah ha maledetto la donna che si fa i tatuaggi e la donna che si depila le sopracciglia, che si lima i denti a scopo di abbellimento e le donne che cambiano la creazione di Allah. Le donne da parte di Maometto sono maledette anche solo se si rifanno le sopracciglia o si fanno i tatuaggi. Questa è la stessa persona che in altri Edith dirà come depilarsi la vagina alle donne e lui stesso si tingerà la barba di rosso. Livello di ipocrisia che inizia a salire. In un altro Edith sappiamo che una volta Maometto è passato accanto a delle donne e ha detto, oh donne, fatele lemosina, poiché ho visto che la maggior parte degli abitanti del fuoco dell'inferno eravate voi donne. Le donne chiedono perché e lui risponde, perché imprecate spesso e siete ingrate verso i vostri mariti. Non ho mai visto nessuno più deficiente di voi in intelligenza e religione. Un uomo prudente e ragionevole potrebbe essere sviato da alcune di voi. Le donne a questo punto chiedono, oh messaggero di Allah, che cosa manca alla nostra intelligenza e alla nostra religione? E lui risponde, la testimonianza di due donne non è forse uguale alla testimonianza di un uomo? Rispondono di sì e lui dice, questa è la vostra deficienza in intelligenza. Non è vero che una donna non può né pregare né digiunare durante le mestruazioni? Le donne rispondono di sì perché queste sono regole che Maometto stesso ha dato. E lui dice, questa è la loro deficienza in religione. Le donne sono deficienti, nel cervello delle donne manca un pezzo. Maometto sta dicendo questo e lo sta dicendo sulla base di due regole che ha dato lui. Una è quella che con le mestruazioni non si prega e non si digiuna, ma questa non è deficienza in religione. Sei tu che mi hai dato questa regola e io la devo praticamente rispettare. E la testimonianza di due donne equivale a quella di un uomo intero, anche una regola di Maometto. Non è deficienza questa. Infatti io personalmente la rispettisco al mittente. Inoltre all'inizio della ditta, quando Maometto dice, oh donne fatele lemosina perché ho visto che la maggior parte degli abitanti dell'inferno sono donne. A parte che non mi risulta, nel senso che un uomo musulmano quando arriva in paradiso cosa trova? Donne. È un modo che ha Maometto per chiedere i soldi perché li sta finendo. Tant'è che dice fatele lemosina come per dire se mi date i soldi finirete in paradiso. Questo sta dicendo perché sta finendo la pensione, la eredità di Khadija. Ha già preso Aisha per assicurarsi un futuro benestante. Nel senso che Aisha è la figlia di Abu Bakr, il compagno numero uno di Maometto, che è il più ricco in assoluto. Che è il motivo per il quale Maometto già quando Aisha ha cinque anni e mezzo, sei, inizia a dire da Abu Bakr io sposerò tua figlia. Tutto lì. Quando poi smette con le donne musulmane va dagli ebrei. Gli ebrei non gli daranno mai una lira tranne in un caso in cui gli ebrei assecondano a Maometto per non entrare in un conflitto. E dopodiché la Gisia prende piede a causa dei cristiani. Se fosse stato per gli ebrei adesso noi non staremmo parlando di Islam. È responsabilità dei cristiani avere l'Islam ancora oggi. Perché gli hanno dato dei soldi quando lui li chiedeva. Era quello che ha fatto per anni prima di poter essere numericamente così appunto numeroso, tra virgolette numerosi tutti, da poter massacrare il prossimo. Ok, andiamo avanti. In una ditte Maometto parla del cattivo presagio e dice, la ditte dice, il profeta ha detto, se c'è un cattivo presagio in qualcosa, questo è nella casa, nella donna e nel cavallo. Qual è l'elemento di connessione, il connettore logico fra un cavallo, una casa e una donna? Non c'è, ho controllato in arabo, dice la cavalla femmina, però grazie, cioè non me ne facevo niente. Fossimo in osteria a fare aperitivo tutti insieme, io potrei azzardare a dire che il cavallo è la paura che Maometto ha di combattere. Tant'è che anche quando iniziano i combattimenti lui rimane indietro o non va nelle spedizioni di Jihad. La donna è ciò che lui non riesce a conquistare, perché non ci sono donne che gli vogliono genuinamente bene. Anzi è stato anche abbandonato da bambino, ha avuto un'infanzia difficile, tant'è che la casa è quello che lui non aveva, che non ha avuto. Quindi la donna, la casa e il cavallo, però bisognerebbe davvero essere in osteria, andiamo avanti. Una nazione governata da una donna non avrà mai successo. Questa è una ditta molto famosa, seguendo le notizie, quando ogni tanto su qualche canale turco, arabo, viene data la notizia che Giorgia Meloni è diventata capo dell'Italia, eccetera, tutti i musulmani sotto, io non capivo perché, scrivono riposa in pace Italia, stessa cosa che ne so in Giappone, riposa in pace Giappone, deriva da questa ditta. Una nazione governata da una donna è sicuramente destinata a fallire. In un'altra ditta ancora, osserviamo l'atteggiamento sessuale di Maometto, la ditta dice questo, Maometto vede una donna, poi va da Zainab, che sta lavorando a del pellame, a della pelle, fa sesso con Zainab, esce di casa e dice agli altri musulmani, La donna arriva e va via sotto forma di demonio, quindi quando vedete una donna dovete andare da vostra moglie, perché facendo così scomparirà ciò che avrete sentito. Tutto bene, tutto benissimo. Tra l'altro Zainab, ce lo ricordiamo, è la cugina di primo grado di Maometto, che era la moglie del figlio di Maometto, che lui vede nuda e inizia a flirtare, ok, ottimo. Quindi lui vede una donna, corre da Zainab, ha un rapporto sessuale, chissà come era contenta Zainab, tra l'altro che stava anche lavorando a qualcosa, lavava della pelle, e poi esce e dice lineare, la donna arriva e va via sotto forma di demonio, sì. Quindi quando vedete una donna dovete andare da vostra moglie, consumare, fare sesso con vostra moglie, perché così vi scomparirà quello che avrete sentito. Benissimo, pollice in su per rasullalla. In un altro adit dice, dopo la mia morte, dopo di me, il problema più grande che lascerò agli uomini sono le donne. Wow, grazie, sì, sì. Immaginate il memoriale, uno delle commemorazioni che possano fare per l'11 settembre. Allora, se contiamo solo i parenti stretti delle vittime, potremmo avere davanti 10.000 persone, 15.000 persone. 10.000 persone. Prendiamo il microfono in mano e diciamo, scusate, volevo solo aggiungere che secondo me è il problema più grande che vi ha lasciato Maometto, sono le donne americane. Sì, un altro ditto importantissimo che viene molto usato, purtroppo, è quello che prevede che una vergine, in previsione del matrimonio di questa vergine, non si debba chiedere il suo consenso, perché Maometto ha detto il silenzio e il suo consenso, che è una frase stupida, è come se io adesso vi dicessi la tua luce e la tua oscurità. No, no, no. E purtroppo questo viene iper abusato nel caso di questi matrimoni forzati. Ma non è che sono forzati. Non è previsto che si debba chiedere il consenso della ragazzina, che tra l'altro di solito è piccola e sta finendo nelle mani di un depravato mentale che ha 30 anni più di lei o 40 anni più di lei. In un'altra ditta c'è un dialogo fra un uomo che si è appena sposato e Maometto. Maometto gli chiede ma che tipo di donna hai sposato? L'uomo risponde, ho sposato una matriarca, una donna importante. E Maometto gli chiede, perché non ti piacciono le vergini? Potevi sposare una vergine, tu giocavi con lei e lei giocava con te. Tutto bene, tutto bene, non so cosa dire. In una ditta che ci ha lasciato Aisha, che Allah si è compiaciuto di lei, Maometto, lei dice, Maometto ha detto davanti a me, tre cose annullano la preghiera, un asino, una donna e un cane. Scusate, a voi non vi fa incazzare una cosa del genere? Io non credo ci sia bisogno, però se siete uomini, vi immaginate se io domani vi mando un messaggio su whatsapp con scritto Sono appena andata al bar, ho visto tua madre e tua sorella, mi sono proprio ricordata di un asino e di un cane. Ciao, buona giornata! Ma non ce n'è bisogno e poi è troppo stupido. Infatti Aisha subito dopo dice, ci ha paragonate a degli animali, ma per Dio, io ho sempre visto Maometto pregare con me presente fra lui e la Qibla. Cioè Aisha dice che a non so quanti anni meno di Maometto poteva essere suo nonno e la bambina dice, no, a voi ha dato questa regola, ha detto questa cosa, però ci ha paragonate a degli animali. Inoltre ipocrita, perché a casa lui ha sempre pregato con me fra Maometto e la Qibla, il tempio politeista dell'Islam che condanna il politeismo. In un'altra ditta Maometto dice che, no, in un'altra ditta ci sono degli uomini che sono riusciti a stipulare un patto, un contratto con Maometto, ci sono anche delle donne e Maometto dice, accetto questo contratto, ma non stringerò la mano delle donne. Questo non so se ci avevate fatto caso, in Qatar è successo più di una volta e anche qualche anno prima per dei preparativi per i mondiali di calcio in Qatar, c'erano una fila di atleti che si presentavano di fronte ai nobili esponenti del Qatar con la tovaglia sulla testa, ora di stringere la mano alla donna facevano così. Questo c'era qualche video che avevo intercettato e direi che possa derivare tranquillamente da questo adit di Maometto. Dopodiché in un altro adit ancora c'è un uomo che vuole sposare una donna, ma purtroppo questa donna è sterile, non può avere figli, quindi quest'uomo si reca da Maometto per chiedere consiglio. Maometto per tre volte gli dice assolutamente non sposarla, l'ultima di queste tre volte aggiunge anche questo. Sposate solo le donne prolifiche, non le donne sterili, perché diventeremo superiori numericamente sugli altri popoli grazie a questo. Notato niente? Ah, poi c'è l'altra aquila vicina, Umar, che dice a tal proposito, aggiunge questa frase, avere un tappeto in casa è meglio che avere in casa una donna sterile. Ok. In un altro meraviglioso adit, Maometto dice che per quanto riguarda il matrimonio, le clausole più importanti da rispettare sono quelle riguardanti il diritto di godere della vagina delle donne. Ottimo. E infine, magari infine, ce n'è ancora un sacco, poi c'è una ditta dove Aisha dice di essere stata picchiata da Maometto, perché Maometto si è allontanato nella notte, faceva delle cose strane, la bambina l'ha inseguito. Quando lei però torna nel letto al fiatone, Maometto si rende conto che lei ha corso per non essere vista. E secondo me in arabo c'era un modo diverso, non credo le abbia dato un pugno, perché è come se le facesse così. In italiano è il messaggero di Allah mi ha colpita sul petto e questo mi ha fatto male. Secondo me è questo, non è un pugno, perché c'era un altro modo per dire. In inglese non si capisce niente. Comunque l'ha picchiata e la bambina dice E questo mi ha fatto molto male, mi ha causato dolore. La donna è come una costola. Se provi a raddrizzarla si spezzerà. Quindi se vuoi trarre beneficio fallo mentre è ancora storta. Quindi, scusate, commento personale. Le donne sono storte, deficienti, cattivo presagio, cavalli, asini, cani. Maometto ne ha avute 13 di mogli, sicuramente 11 in contemporanea, infinite schiave sessuali. Ha avuto l'ebrea, ha avuto la cristiana, ne ha avute di tutti i colori. Ha avuto anche la bambina, ha avuto anche una signora anziana. Però ricordatevi che le donne sono difficilmente di cattivo presagio, storte, da raddrizzare. Se un marito chiama sua moglie a letto, cioè per avere un rapporto sessuale, e lei rifiuta il rapporto sessuale e lo fa dormire arrabbiato, gli angeli la malediranno fino al mattino. Questa è una ditta molto abusata, molto usata contro le donne. È abbastanza frequente che ci siano testimonianze di donne che dicono che veniva loro ripetuto questo aditta. Se sangue, suppurazione e pus sgorgassero dal naso del marito e la moglie lo leccasse con la lingua, lei non sarebbe ancora in grado di soddisfare i diritti del marito su di lei. Questa è una ditta debole, no, non è neanche una ditta. È un commento al Corano di Al-Suyuti, che avevamo già visto per la vagina appetitosa qualche tempo fa. Comunque non è particolarmente rilevante a livello di teologia islamica, ma io ho un'amica apostata dell'Islam, ex musulmana, a cui questo aditta veniva spesso ripetuto per ricordarle la propria posizione di inferiorità e finché i musulmani lo usano contro le donne lo userò anch'io. Non è comunque un aditta della Sunna, solo per quello. Il messaggero di Allah disse, cosa ho scritto qui? Ah sì, c'è un uomo che ha fatto un viaggio verso la Siria, verso il Levante, ha visto delle persone che si prostravano per un rito religioso ai piedi di altre persone, torna da Maometto, lo fa anche lui. E Maometto gli dice, non farlo. Questa immagine involontariamente da parte di Maometto è perfetta per capire quale sia la posizione delle donne rispetto ad Allah. Nel senso che le donne non hanno un rapporto diretto con Allah, mentre invece gli uomini sì, ma hanno un rapporto che è intervallato, interrotto dalla presenza del marito. Cioè la donna deve essere particolarmente subordinata e obbediente nei confronti del marito e poi forse dopo Allah sarà soddisfatto di questa donna. Ma non c'è un rapporto diretto. E questo ditto secondo me di Maometto lo conferma. Ok, poi qui abbiamo un altro ditto di Aisha, che una mattina si vede arrivare una donna completamente livida, perché è stata pestata da un uomo. E Aisha dice, è arrivata questa signora, indossava un velo verde, si è lamentata con me e mi ha mostrato le macchie verdi sulla pelle a causa di questo pestaggio. Quando arriva il messaggero di Allah, Aisha dice, non ho mai visto nessuna donna soffrire tanto quanto le donne musulmane. Miglior frase di tutta la Sunna. Veramente la più significativa di tutta la Sunna è questa. E dopo Aisha aggiunge, guarda, diciamo Maometto, ha la pelle più verde dei suoi stessi vestiti. Da un'altra ditta ancora scopriamo che un tempo nel Corano c'era stato un versetto che riguardava soltanto le donne, che poi è diventato il versetto che vediamo oggi, che riguarda sia gli uomini che le donne, in caso di adulterio, in caso di fornicazione. Prima c'era scritto questo. Io vi leggo la ditta che ripercorre i cambiamenti. Se una delle tue donne è colpevole di oscenità, che può essere adulterio o fornicazione, prendete le prove di quattro fidabili testimoni e se testimoniano, richiudeteli in casa finché la morte le incateni o finché Allah non ordini qualcos'altro per loro. Allah ha poi menzionato anche un uomo insieme a una donna e li ha combinati insieme in questo versetto. Se due uomini tra voi sono colpevoli di oscenità, puniteli entrambi. Se si pentono e fanno ammenda, lasciateli in pace. Questo comando è stato abrogato dal versetto relativo alla fustigazione. La donna e l'uomo colpevoli di adulterio e fornicazione flagellateli entrambi con centocolpi. In un ultimo adit che ho selezionato, Maometto dice questo. Ad un uomo non verrà mai chiesto perché picchia la moglie. Ok, velocemente passiamo al Corano. Adesso che abbiamo intuito che nella mentalità di Maometto non ci sono le premesse per una parità sessuale fra l'uomo e la donna. Anzi, c'è un tasso di misoginia non indifferente con questo rapporto, con questo approccio anche sessuale non perfettamente sano. Per quanto riguarda il Corano, la prima cosa che dobbiamo capire è che le donne non esistono secondo Allah. Nel senso che Allah ha creato gli uomini e poi ha creato delle cose per gli uomini e fra queste cose ci sono anche le donne che sono comunque esseri inferiori. Tant'è che in più punti dice che gli uomini hanno più responsabilità, devono fondamentalmente occuparsi delle donne, sono preposti alle donne. Praticamente le donne che esistono nel Corano non sono donne a livello autonomo, come esseri autonomi, ma esistono solo in funzione della relazione che hanno con gli uomini. Quindi esistono le madri, esistono le figlie, esistono le sorelle, esistono le donne che puoi sposare e le donne dalle quali puoi divorziare e poi esistono delle donne sulla base del comportamento sessuale che hanno, ovvero anche nel caso di adulterio e nel caso di fornicazione. Tra l'altro tenete presente che le donne musulmane valgono molto di più dalle donne infedeli. Quindi in questo momento io sto tralasciando le donne infedeli che avevamo già visto in un altro video sulla schiavitù sessuale che è importante perché appunto è la sorte delle donne non musulmane che valgono ancora meno di quelle musulmane. Gli uomini sono superiori alle donne, viene detto in più punti del Corano. Uno è un po' secondo me tradotto male, nel senso che in arabo viene detto che gli uomini sono preposti alle donne, questa nella sura 4, siccome Allah preferisce gli uomini rispetto alle donne. Ma in un altro versetto ancora, in italiano è diventato gli uomini hanno più responsabilità delle donne, ma in realtà in arabo sta dicendo Allah che gli uomini occupano un gradino più alto rispetto al gradino che occupano le donne che appunto sono inferiori e sono sotto. In inglese tutto questo è ancora più, è meno sfumato rispetto all'italiano perché dice proprio nella sura 4 siamo sempre men are in charge of women, cioè gli uomini si devono occupare delle donne perché sono state create e non sono esseri autonomi e indipendenti come dicevo prima. E sempre perché Allah ha favorito gli uomini nel senso che li ha creati meglio. Allah ha creato gli uomini perfetti, poi ha creato le donne che sono inferiori ed efficienti, poi ha creato anche gli ebrei, i cristiani, insomma ha fatto un pessimo lavoro, direi Allah, cioè lo dice lui stesso. A questo punto possiamo esaminare la funzione quindi delle donne. La funzione delle donne è quella di prolificare. Viene detto da parte di Allah che le donne sono un campo, sono come un campo e viene detto agli uomini perché Allah parla sempre soltanto agli uomini ed ha delle indicazioni su come essere musulmani. Fra queste indicazioni ci sono anche indicazioni che riguardano altre cose che sono appunto le donne. Quando è finito il Ramadan e quando sono finite le mestruazioni, Allah dice accostatevi tranquillamente alle vostre spose perché loro sono per voi un campo, accostatevi come e quando volete. I tafsir chiariscono che la donna è il luogo della prolificazione. Quindi la funzione della donna è quello di prolificare. Nei tafsir, se volete dare un'occhiata, io lascerei anche questa cosa vagamente detta. Aisha spiega che durante le mestruazioni non si possono avere rapporti sessuali ma che il messaggero di Allah quando lei ha le mestruazioni le mette una toppa di stoffa sulla vagina e fa dei giochetti. Questa è la sunna di Maometto. lascerei le cose così come ognuno crede. Tanto non è neanche il peggio di quello che vedremo. Ok, quindi le mestruazioni viene detto da parte di Allah che sono un danno, nel senso che sono proprio dannose, lo dice anche in arabo, sono proprio dannose anche per gli uomini. Possono fare del male agli uomini le mestruazioni e quindi assolutamente non vanno toccate le donne quando hanno questa cosa impura che potrebbe danneggiare anche gli uomini. Quindi, principalmente le donne devono essere sposate. Per questo motivo adesso andiamo a vedere il niqah. Il niqah è un contratto di rapporto sessuale che prevede che il rapporto sessuale diventi halal, ovvero diventi permesso, mentre prima del niqah il rapporto sessuale è haram di sicuro. Questo è il concetto di matrimonio che ha l'islam. Il sesso può essere permesso oppure vietato. Per avere il sesso permesso devi contrarre praticamente un contratto di matrimonio che è il niqah. Ricordiamoci che al versetto 4 della sura 65 il niqah può essere contratto anche con una bambina, nel senso che nell'islam non esiste l'età minima per il matrimonio, tant'è che la sura sul divorzio, il talak, specifica proprio che anche le bambine che non hanno ancora avuto le mestruazioni possono essere divorziate. Quindi sulla base di questo da un giorno di vita in poi, come ho visto di recente in un fantastico video di un'autorità islamica che si spiegava così, da un giorno di vita in poi possono essere date in sposa le bambine. Ottimo. Rispetto al matrimonio dobbiamo vedere il concetto di poligamia, nel senso che la poligamia è ammessa soltanto per gli uomini, ovviamente un uomo musulmano può sposare fino a 4 mogli, dopo le 4 mogli può avere infinite schiave sessuali. Ovviamente questo non funziona per la donna che può avere solo un marito e non può avere infiniti schiavi sessuali. Il discorso sulla poligamia ci interessa molto perché dobbiamo anche ripetere come si eredita praticamente l'identità religiosa del bambino. Un bambino nato da un padre musulmano di sicuro sarà musulmano o musulmana, mentre il bambino nato da una donna musulmana è musulmano soltanto se quella donna ha fatto sesso, ha avuto rapporto sessuale relativo con un uomo musulmano. In altre parole, la donna è irrilevante ai fini del trasmettere l'identità religiosa islamica. Per questo motivo le donne musulmane non possono sposare nessuno che non sia musulmano, mentre gli uomini musulmani possono sposare cristiane, ebrei, induiste, ate, qualsiasi cosa, tanto comunque nascerà un figlio musulmano che mi sembra il modo migliore per formare un esercito praticamente. Per quanto riguarda la poligamia mi sono resa conto l'altra sera rileggendo il sublime Corano che addirittura Allah non parte di default dicendo potete sposare una moglie e poi forse anche altre fino a quattro. Allah parte con l'idea che gli uomini possano sposare due, tre, quattro mogli lo dice come se io vi chiedessi quanti pomodori volete al supermercato prendine due, tre, quattro e poi nella frase seguente dice se invece temete di essere ingiusti nel senso che non avrete la possibilità di dare a tutte queste mogli le stesse condizioni economiche di vita di qualità della vita allora solo una. Quindi Allah di default parte con l'idea di prenderne due, tre, quattro così come patate al mercato e poi se però non riesci solo una ovviamente il tutto non è consentito per una donna per quanto riguarda il discorso sul matrimonio ricordatevi che nella lista demenziale che fa Allah di donne che non si possono sposare o che si possono sposare c'è una frase che non coglie mai nessuno comprensibilmente perché non è chiara che è quella in cui si parla delle figliastre avevo dedicato a questo un video a parte che potete tornare a rivedere se non l'avete mai visto brevemente l'uomo che sposa una donna e questa donna ha già una figlia che è figlia biologica di un altro uomo che adesso non c'è più quell'uomo il neomarito può avere un rapporto sessuale con la figlia della neomoglie della neosposa questo secondo tutte le scuole di sharia tranne una la shafi secondo la quale se tua figlia è biologicamente tua ma tu l'hai concepita per fornicazione e non per matrimonio islamico puoi violentare anche lei nel terrificante versetto 34 della sura 4 Allah sancisce la violenza sulle donne il versetto che conoscerete lo conoscono credo anche i ciechi purtroppo è questo ammonite quelle di cui temete l'insubordinazione lasciate le sole nei loro letti battetele se poi vi obbediscono non fate più nulla contro di esse Allah è altissimo grande no Allah è bassissimo è anche piccolo correggerei io personalmente allora questa ovviamente è un momento in cui Allah dà delle istruzioni in tre fasi progressive la prima cosa che bisogna fare se tua moglie non è particolarmente obbediente ammonirla sulla base del corano della sharia la seconda è quella di non avere rapporti sessuali con lei come se lei lo volesse cioè come se fosse punitivo vedete quant'è distorta la mentalità se io ho litigato con mio marito e ho anche paura che mi picchi probabilmente io quella sera non voglio avere rapporti sessuali con lui ma il corano è scritto in più punti dell'islam ci sono delle distorsioni della realtà e delle distorsioni della percezione di una donna quindi lasciarle sole nei loro letti significa non avere rapporti sessuali con loro come se questo fosse punitivo infine battetele darabunna questo è uno dei punti su cui la Dawa fa le migliori acrobazie mentali se dovesse capitarvi vi prendete un bel telefono chiedete al Dahi che avete davanti adesso mi scrivi su google translate dall'italiano all'arabo come si dice ho battuto i materassi oppure ho battuto un piede contro il tavolo verrà fuori darabit usate il passato prossimo non usate il futuro non usate l'infinito al passato prossimo darabit è il passato prossimo di darabunna che è picchiatele dovrebbe bastare se non basta ci sono i tafsir e se non basta ancora ci sono i manuali di sharia dove c'è scritto sarebbe meglio non spaccare le ossa della donna se lo ritrovo ve lo lascio in descrizione un sociologo del Qatar è riuscito a fare un tutorial su un bambino di questo non fa del male al bambino ovviamente ma è completamente folle il sociologo non i pesci vendono il sociologo e fa così queste persone sono nelle mani del demonio allora quando vuoi picchiare tua moglie fai così ma piano 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 e poi vedete come bello l'islam noi lo facciamo opposto per disciplinarle noi facciamo un favore alle nostre moglie perché sulla base di Allah vogliamo tanto bene alle donne quindi mi raccomando non sul volto e poi non bisogna spaccare le ossa della moglie vedete quanto è bello l'islam è tornata la peldoca lo so a memoria quel video ok la testimonianza siamo nella sura 2 versetto 282 Allah dice chiamate a testimoni due dei vostri uomini o in mancanza di due uomini un uomo e due donne tra coloro di cui accettate la testimonianza in maniera che se una sbagliasse l'altra possa rammentarle questa è la regola più stupida che io abbia mai sentito in vita mia nel senso che se un uomo intero non c'è per trovare l'equivalenza di un uomo intero devi trovare due donne è stupidissima tra l'altro è proprio solo sulla base di chi possiede i testicoli il pene o la vagina nel senso che non dice trovate un uomo competente che abbia chissà quali competenze quali abilità quali conoscenze no se hai il pene se hai i testicoli vale il doppio di una donna perché la donna ha la vagina che è quello che tu vuoi in ogni punto dell'islam si parla sempre di vagina e di sesso però sono delle deficienti però ne posso avere quattro però e anche fite schiave sessuali eh però guarda è tutto così per quanto riguarda l'eredità qui anche possiamo farci venire un po' di mal di testa ci sono delle regole altrettanto assurde secondo me questo è uno dei momenti in cui Maometto sta prendendo in giro le persone perché Allah dice al maschio la parte di due femmine che già non è accettabile poi fermi se ci sono solo femmine sono più di due quindi se io sono musulmana e ho un fratello i nostri genitori vengono a mancare io prendo la metà di quello che prende mio fratello questo in Inghilterra è già successo perché ci sono i tribunali della sharia non sapremo mai gli inglesi cosa pensassero però ci sono ma poi non basta se ci sono solo femmine e sono più di due quindi io sono musulmana e ho due sorelle i nostri genitori vengono a mancare a me e alle mie sorelle spettano i due terzi dell'eredità che vuol dire che c'è un terzo che non va a nessuno provate a ragionarci e se è una figlia sola ha diritto alla metà poi va avanti e non c'è un punto in cui venga detto questa metà o questo un terzo che non ha preso nessuno a chi vada Hamas che fanno un sacco di soldi con le donne a chi va a chi lo manda e sbolla non lo so comunque non è neanche la cosa più rilevante del mondo passerei a questo punto alla ricostruzione di quello che sarà l'obbligo secondo la sciaria di avere quattro testimoni per poter denunciare uno stupro abbiamo un incipit nella sura 24 nei versetti dal 6 al 7 in cui viene detto scusatemi quanto a coloro che accusano le loro spose senza avere altri testimoni che se stessi la loro testimonianza sia una quadruplice attestazione in nome di Allah testimoniante la loro veridicità allora qui Allah sta dicendo quello che è il preambolo del disastro sta dicendo che io posso io marito posso accusare mia moglie di tradimento come posso accusare mia moglie di tradimento devo esclamare per quattro volte di fila che sono sincero e poi devo aggiungere una quinta esclamazione che è questa mi maledica Allah se sono bugiardo ma questa è la paranoia in cui Maometto lascia gli uomini musulmani ah prima anche non l'ho detto quando il marito può picchiare la donna non può picchiarla perché di sicuro la donna ha fatto qualcosa di arrogante ma quando il marito teme che la donna forse stia diventando arrogante e chi le ha come lo misuri il timore di un uomo come si fa a stabilire una cosa del genere e questa è un'idiozia simile sono sincero sono sincero sono sincero sono sincero che Allah mi maledica se sto mentendo e sulla base di questo tu puoi accusare tua moglie di averti tradito poi c'è tutto un altro delirio di Allah che continua con i suoi discorsi e poi si arriva al versetto 13 dove Allah dice perché non produssero quattro testimoni in proposito non lo so dimmelo tu sei tu che stai parlando sapete che fa sempre queste domande retoriche se non portano i quattro testimoni allora davanti ad Allah sono essi i bugiardi allora tutto il delirio di Allah si può capire se facciamo una breve capatina nella biografia di Maometto ma proprio brevissima Jihad la spedizione jihadista torna verso Medina Aisha si perde nel deserto fa la pipì perde un braccialetto si attarda e i pedagogisti gli educatori non si accorgono che la bambina non c'è più e tornano senza di lei per fortuna c'è un ultimo soldato che vede Aisha nella notte fra le dune e la recupera e la riporta alla base il giorno seguente scoppia lo psicodramma perché Maometto a questo punto ha contro di sé tutta una serie di regole che sono il frutto della mentalità che lui ha già insegnato agli altri Aisha perché Aisha è stata da sola con un uomo nella mentalità islamica una donna che sta sola con un uomo può voler dire solo una cosa ovvero sesso per forza infatti si scatena tutto questo psicodramma attorno a Maometto e attorno ad Aisha tant'è che Aisha negli adit che spero di non dover rileggere mai più dice io stavo molto male ho pianto per due tre giorni di filo ho avuto un mese di febbre e Maometto non veniva mai a trovarmi ma io non capivo cosa stesse succedendo perché la bambina non ha mai capito che cosa sia successo in tutto questo episodio succede semplicemente che Maometto dovrebbe secondo la mentalità che lui ha già instillato punire Aisha punire l'uomo divorziare da Aisha e basta punire la fornicazione punire l'adulterio divorziare da lei ma lui non lo vuole fare lui entra in una crisi profondissima che non riesce ad affrontare che si ritorce contro di lui la sua stessa mentalità tant'è che addirittura Zainab interviene va da Aisha la consola ma la bambina non capisce l'unica cosa che capirà Aisha è questa che c'è stata una riunione fra Maometto Ali e Osama se non ho sbaglio sì e Ali ha detto a Maometto quando Maometto ha chiesto cosa devo fare sono disperato Ali dice a Maometto cosa se ne frega di Aisha divorziala puoi avere tutte le donne che vuoi questa è l'unica cosa che Aisha capirà che memorizzerà e appena muore Maometto scatena l'esercito contro Ali da qui io penso che derivi lo scisma fra sunniti e sciiti comunque Maometto sta tutto infreddolito queste gocce di sudore ci mette tantissimi giorni a elaborare la rivelazione di Allah che dice Aisha sei perdonata come faccio adesso io a giustificarmi con gli altri servono quattro testimoni che abbiano visto la fornicazione se non ci sono quattro testimoni da qui nasce questa regola che servono quattro testimoni per denunciare uno stupro con tutto che l'islam come vedremo fra poco non prevede l'esistenza dello stupro non esiste lo stupro nell'islam esiste la fornicazione che in alcuni casi forse è forzata ma per dimostrarlo devi avere quattro testimoni quindi questo volevo solo menzionarlo rispetto all'accusa di tradimento del sura 24 tutto questo si capisce solo facendo ricorso a questo episodio della povera Aisha dopodiché abbiamo l'episodio scandaloso di Maometto che è ancora più difficile da raccontare allora nel versetto 230 della sura 2 tutti si perdono sempre un paio di dettagli che sono questi Allah dice se il marito divorzia dalla moglie per la terza volta nel senso che il divorzio funziona così il marito si avvicina alla donna e dice talak 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 per tre volte di fila quindi se la donna è stata divorziata così per il talak completo la donna non sarà più lecita per lui finché non abbia sposato un altro in che senso e se questi divorzia da lei il secondo marito divorzia dalla moglie allora non ci sarà peccato per nessuno dei due se si riprendono purché pensino di poter osservare i limiti di Allah se una persona rispetto a questo versetto apre i tafsir si scopre che una donna può tornare dal primo marito da cui è già stata divorziata se ha avuto un rapporto sessuale completo con il secondo marito io so che tutto questo non è credibile per questo motivo dobbiamo parlare della storia di rifà durante la vita di maometto esiste questa persona un uomo che si chiama rifà che è sposato con sua moglie hanno anche dei figli hanno una famiglia un giorno rifà litiga con sua moglie e sbagliandosi le dice talac 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 tre volte di fila la moglie si arrabbia dice ma sei scemo abbiamo dei figli una famiglia non possiamo divorziare non puoi divorziarmi così lasciarmi da sola è ingessibile il marito se ne pente subito ma fa un errore va da maometto pensando che maometto abbia una soluzione per questo non doveva proprio uscire di casa rifà doveva dire ok fai conto che non te l'abbia detto invece queste persone che credono evidentemente a queste cose decidono di andare da maometto e gli dicono guardi noi ci siamo sbagliati ho già divorziato mia moglie ma vorrei tornare indietro me ne sono pentito maometto sapete cosa consiglia tua moglie adesso deve sposarsi con un altro uomo lui anziano un vecchio deve avere un rapporto sessuale completo con questo signore anziano con questo uomo anziano dopo verrà divorziata da questo signore anziano e potrà tornare da te soltanto se avrà avuto il rapporto sessuale completo con l'uomo dunque come sempre ognuno può interpretare le informazioni che abbiamo come meglio crede io personalmente non faccio fatica a capire che in questo momento maometto sta abusando di nuovo delle sue stesse persone e la stessa persona che di fronte a una tribù che veniva da lontano che stava morendo di un'epidemia gli dicono scusi maometto ci aiuti siamo disperati stiamo per morire lui risponde attaccatevi al cazzo di un cammello per bere il piscio caldo direttamente dalla fonte e vedrete che guarirete subito che starete benissimo e non ride c'è un adit c'è un altro episodio quello dell'allattamento al seno di un adulto che avevamo già visto in cui addirittura ride come anche nel caso di rifà questo caso qui perché gli viene detto guardi noi abbiamo questo giovane ragazzo in casa uno schiavo liberato inizia a avere desideri sessuali cosa posso fare per ovviare questo problema sbattigli le tette in faccia e fattele succhiare questo è il mahram questo è l'abuso che sta facendo lui sugli altri e ride infatti in questi aditte che io vi ho preparato vi ho selezionato innanzitutto scopriamo che maometto ride quando rifà gli dice scusi ma come facciamo noi adesso a tornare insieme manda tua moglie a farsi sbattere da un signore anziano devono avere un rapporto completo prima di questo lui ride non solo ma in inglese non è corretta la traduzione in arabo maometto dice tua moglie potrà tornare da te solo dopo che il signore anziano avrà assaggiato il miele durante un rapporto sessuale completo di questo signore anziano e lei avrà assaggiato il miele di lui insomma fa questa cosa questo miele che cosa sarà il miele in un contesto sessuale sono i liquidi che biologicamente vengono emessi non so come esprimermi durante una situazione sessuale quando tua moglie avrà assaggiato quello del signore anziano potrà tornare da te e quando il signore anziano avrà assaggiato il miele di tua moglie quindi tu adesso vai a casa e ti immagini la scena di tua moglie che deve fare queste cose io abuso di te abuso di questa donna infinitamente perché cosa accade che la donna non capendo più niente si attiene a questo tentativo di recuperare la situazione ma quando si ritrova in casa con questo signore anziano non vuole avere un rapporto sessuale con lui e prende una fraccata di botte questa è la stessa signora che il giorno dopo andrà al mattino a casa di Aisha verde perché è stata picchiata per questo motivo e Aisha dirà la frase più bella di tutta la sunna non ho mai visto nessuna donna soffrire tanto quanto le donne musulmane accendete un telegiornale qualsiasi stasera ditemi se si è sbagliata Aisha oppure no secondo me no e da lì arriva anche la did a nessun uomo verrà chiesto perché picchia la moglie quindi in quel momento Maometto condona la violenza l'abuso l'arabunna picchiatele battetele e sottopone a questo abuso queste persone per una cosa troppo stupida assaggiare il miele benissimo adesso dobbiamo parlare della sharia allora per quanto riguarda il divorzio abbiamo già capito che il talak ovvero il divorzio funziona così ovviamente una donna non può divorziare da un uomo cioè può divorziare nel senso che può chiedere il divorzio ma è il marito che deve darglielo che se il marito dice di no lei non può andare da un giudice e dire no ma analizzate la mia situazione merito comunque di essere presa in considerazione no è il marito che ti deve dare il divorzio secondo la sharia che avviene con questo talak detto tre volte di recente il talak può essere comunicato anche tramite messaggio tramite whatsapp meraviglioso perché dico questo perché due settimane fa ho trovato una notizia bellissima di una ragazza in Arabia Saudita sposata con un marito che suppongo non fosse il migliore del mondo gli ha rubato il telefono con whatsapp si è mandata da sola talak 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 tre volte e poi io l'ho immaginata libera che usciva da quel paese di pazzi completamente pazzi per quanto riguarda lo stupro e la fornicazione volevo precisare questo nell'islam non esiste lo stupro esiste la fornicazione noi abbiamo sempre parlato qua così in questi video di stupro perché noi sappiamo distinguere un rapporto sessuale sano da uno stupro nessun dubbio ma l'islam non fa questo ragionamento il ragionamento che fa l'islam in particolare la sharia è che esista la fornicazione la fornicazione potrebbe forse essere forzata a danno della donna che subisce la fornicazione ma per essere in grado di denunciare tutto questo la donna deve avere quattro testimoni maschi che abbiano visto che la fornicazione era forzata no non solo ma che abbiano visto che il pene entrava e usciva nella vagina della donna donna violentata ovviamente questa è una follia questo è un modo per dire agli uomini andate violentatele pure perché nessuna donna esce di casa con quattro uomini in caso di fornicazione forzata per avere quattro testimoni è una follia totale completa che tra l'altro deriva da questo episodio stupido che abbiamo visto di Aisha il braccialetto il deserto eccetera ci sono delle donne che sono andate nei paesi dove c'è la sciaria verticale vi prego non andate mai ditelo tutte le vostre amiche nessuna vada mai in un paese del genere sono state violentate quando sono andate alla polizia per denunciare lo stupro non sapendo questa cosa dei quattro testimoni sono state loro arrestate per fornicazione e hanno preso cento colpi di frusta poi da lì bisogna vedere come riesce a uscire dall'Arabia Saudita o dall'Iran andate in Tunisia vi guardate il mercatino vi fate il giro sul cammello in Marocco non andate mai in questi posti come l'Iran o il golfo vi prego per favore questa che è terrificantemente umiliante per una donna vuol dire che se io adesso sono in casa vengo stuprata se io ho quattro webcam ma posso averne anche otto e semplicemente quelle otto mila webcam non sono puntate sulla mia vagina che sta subendo una fornicazione forzata che è una violenza caspita non posso fare niente se io vado alla polizia a denunciarlo passo io per fornicatrice folle completamente folle scusate non volevo scaldarmi tanto siamo arrivati verso quasi la fine ce la possiamo fare allora all'interno della moschea secondo la sharia secondo l'islam le donne non sono particolarmente incoraggiate ad entrare possono entrare ma se anche entrano non possono far parte della non possono partecipare alla preghiera collettiva alla preghiera pubblica neanche e se proprio volessero entrare devono stare in una parte segregata ai lati della moschea avevo fatto delle belle foto tempo fa non mi ricordo dove se le ritrovo le pubblico di donne segregate mentre gli uomini possono stare nella parte della moschea con l'imam davanti imam in arabo vuol dire colui che sta davanti solo quello se per caso volessero proprio entrare l'ingresso non può essere quello generale dal quale entrano gli uomini ma deve essere un ingresso sul retro viene vista in maniera oltraggiosa oggi una donna che così a volte lo fanno le donne musulmane di passare dall'ingresso principale viene vista male comunque qualcuno non dice niente qualcuno può anche diventare violento perché viene mal vista questa cosa le donne non possono fare jihad è stata emessa una fatua soltanto per le donne palestinesi che soltanto per loro appunto è stata fatta un'eccezione loro possono sia massacrare fare jihad contro gli ebrei che fare le martiri che cosa va a fare una martire femmina in paradiso nel senso che i palestinesi quando saltano pensano poi ci sono le feste di matrimonio organizzate perché pensano che ci saranno le 72 patonze e queste bambole gonfiabili del paradiso islamico la donna neanche quello però abbiamo dei casi di donne che si sono martirizzate nei territori palestinesi la jihad che può fare la donna non è la jihad che intendiamo noi noi quando usiamo la parola jihad pensiamo l'11 settembre al Bataclan che sono attentati terroristici che comportano tutta una serie di vittime proprio la dottrina militare della jihad in realtà la jihad ovvero il jihad fissa billallah è proprio una cosa che si può fare che possono fare le donne ad esempio se vogliono implementare la sharia il jihad fissa billallah è proprio combattere sulla via di Allah per la causa di Allah una donna può fare diverse cose ad esempio non so girare per i quartieri e dire che non bisogna vendere l'alcol l'avevano fatto in inghilterra e non dovevano mettersi le minigonne le ragazze inglesi e poi che altra jihad fanno ma noi non la chiamiamo jihad quella lì è irrilevante dal punto di vista occidentale andare fuori dalla scuola dove è stato detto che non bisogna discriminare gli omosessuali con il cartello dicendo assolutamente questo è contro Allah vi toglierò mio figlio dalla scuola eccetera quella è una piccola jihad che si può fare che ovviamente non è quella a cui siamo abituati a pensare quando usiamo questa parola le donne non possono andare ai funerali molte persone chiudono un occhio su questo secondo la sharia le donne non possono neanche andare al funerale del proprio figlio cosa ci può essere di più umiliante adesso io vi parlo del matrimonio mutà che secondo me è prostituzione legalizzata ma non voglio che nessuno sia per forza d'accordo con me quindi io racconto le cose come sono ve le riporto poi ognuno decide se si tratta di prostituzione o di matrimonio il mutà viene chiamato matrimonio mutà ufficialmente questa è la parola la parola prostituzione l'ho aggiunta io adesso non è la parola ufficiale esiste la possibilità di fare un contratto di matrimonio temporaneo che può durare qualche ora o qualche giorno all'interno di questo contratto è previsto che la donna riceva un regalo di valore oppure del denaro e che questo avvenga in cambio di un rapporto sessuale che può essere appunto di qualche giorno o qualche ora al termine cioè quando viene chiuso questo contratto mutà di matrimonio le due persone sono completamente ognuna autonoma dall'altra non ci sono vincoli che continuino a tenerle legate questo venne introdotto da Maometto in una battaglia di cui adesso non ricordo il nome perché forse bader ma mi si sta fondendo il cervello quindi non non ho detto bader non mi ricordo quale e dopodiché tutti i sunniti quindi faceva parte un po' dell'islam genericamente parlando dopodiché i sunniti secondo loro l'hanno abrogato noi dobbiamo tenerci giustamente a quello che dicono e questa cosa è rimasta valida nella sharia degli sciiti questo è il mutà una donna non può uscire secondo la sharia senza il guardiano maschio non solo nella sharia verticale come quella che già conosciamo del golfo dell'iran ma ad esempio anche in Egitto io non prenderei mai neanche da Sottumburka un mezzo di trasporto pubblico perché vieni punita se esci da sola vieni punita con delle molestie con dei commenti niente lontanamente avvicinabile al catcalling dopodiché esiste anche il tarush che abbiamo visto in un altro video in cui la mia idea personale ovviamente mia idea personale non sta scritto da nessuna parte è che il tarush sia proprio una forma per punire la donna che esce di casa da sola bene ce l'abbiamo fatta ho 7 milioni di fogli tra l'altro li ho anche riempiti di caffè perché ieri stavo sclerando allora so che è stata un'epopea lunghissima ho detto però tutto mi sembrava più giusto dire tutto anche data la cronaca italiana che non ha niente a che vedere con l'islam però è una cronaca che riguarda la violenza sulle donne e so che youtube predilige video brevi e pazienza non è il mio caso spero che siate ancora vivi spero che qualcuno sia arrivato fino in fondo grazie mille ciao ci vediamo presto ciao